Ehi tu! Sì, proprio tu! Vuoi vedere questi cartoni della pizza così brutti? No? Allora vaffanculo insieme a pollo! Hai risposto di sì? Allora vai sulla pagina Facebook cartoni della pizza brutti! E ora un messaggio dal nostro sforzo! Fusso porco! Levali le mani di dosso! Aia! Mmm che schifo! Io mangio solo spinaci! Ciao!